buonasera ragazzi buonasera buonasera a te buonasera a te napoli fiorentina 1 3 ma cosa bezza pura nazionale che hai capito? con i figli dopo 15 giorni questa è la seconda volta pure che ragazzi poi c'è stata la sosta e mamma pigliate la napa tosta e c'è stata la sosta ragazzi ieri napoli di nuovo inguartabile no? di nuovo inguartabile cioè ieri cosa viene da lontano cosa che a me più mi spaventa allora scusami un attimo da premettere eh la Fiorentina ha fatto una grande partita facciamo i complimenti alla Fiorentina assolutamente perché la Fiorentina ha giocato prima cosa giovedì ok si hanno esce e è venuto a Napoli ha dettato legge ragazzi la Fiorentina a Napoli ha dettato legge ragazzi una lezione di calcio complimenti a italiano e alla Fiorentina perché il pallone si gioca così lui in vantaggio a Napoli stevano otto persone da metà campanosta ma parecciate loro è ritornato in vantaggio otto persone da metà campanosto tre e uno otto persone così si occupa bravi italiani a giocare bene proprio ogni single ma questo è diciamo eravamo abituati a vedere questo calcio qua noi è che sì sul calcio l'abbiamo visto fino a due mesi fa purtroppo ma non lo so invece ragazzi è cambiato totalmente il Napoli il mister per noi sbaglia di nuovi campi per l'ennesima volta per noi per noi sbaglia di nuovi campi secondo me chissà i giocatori non li conosce però di nuovo rasparatori sulla testa l'assegno non ha fatto un partito però mi toglie di nuovo si mette ragazzi mi mette Gaetano con tutto il rispetto ho posto e robò va giù c'è c'è poteva essere una partita riaprire tutto bel bel bursi per l'angopo prima cosa una palla la tenuta fisica io vengo con una palla non corsa io vengo con cinque minuti che la ricetta appena iniziata la partita quattro cinque minuti dopo la seconda palla arrivavano sempre toscano e la già ti devi preoccupare quando arrivi la seconda palla 99 sul cento hai perso la partita e la hai persa una cosa che a me per non so se voi ci riflettete ci facete caso perché sono qui troppo che mi ha preso io vengo che vengono un'apola che si va a fare questa conferenza e sta un brusaccio per la pezza di barca ammata poi perdono un'apola o vengo che sorride o rispondono i giornalisti ironicamente e noi ne hai capito e tu mi fai dice non lo so io ne voglio mettere carne a cuore però se ho fatto uno che vengono e sta morto non lo so poi veniamo a noi ma ti spiega una cosa ma noi a un portiere quando lo comprerete? abbiamo sempre avuto questo problema ma chiedere il portiere che io ve lo dissi sempre c'è il fu terza padre in questa porta perché quando arrivi a chi lo fa le cose lui deve fare due a mesi di metri tre anni fa ve lo dice non lo tu quanto deve chiudere lo specchio della volta dove sera rimasta la palla per le cambiature tre anni fa noi che aveva detto neve lo adesso ho detto tre anni fa otto quanti aveva detto se mi fa una parata 13 anni fa sti lec a lec, sti lec a lec, all'accavano due anni fa l'anno passato e però ci ha fatto vincere le campionate sti lec a lec io 13 anni fa non ero cosa su, tre anni fa, no mo Per me il problema di Maret si evidenzia ancora che io so, se Maret è che un'auce con ancora più basso si difenda, oltre che la pallata No, per l'anno scorso abbiate tre tiri in bole Ma eh, se abbiamo ricevuto bianco si vede perché tutti gli hanno detto che il peggio è che portieri da andare via questo è una cosa che diceva quando è venuta Gassia, non lo so ma tu sei venuto per fa' tante anni c'è un accordo di barba con lei François, che te ne può aver capito perché per esempio è una cosa che è già evidenziata se voi leggete quando lui parla, lui è sempre, siamo nei primi quattro ammattacini dei primi quattro cioè non lo so le pute, comanda che basta che arriva un incendioso lì che sta a me venendo? la comanda è da una amma arrivata quattro quando preoccupo faccio una durata lui può avere quello che vuole dal presidente ma vincere le partite a me qua buono, che significa comanda arrivare quattro? ma qua si parla proprio di non capire, ho calcio proprio otto voti a spagliare ragazzi comunque Lindstrom è diventato un equatore semplice niente niente la cosa non sa fa niente cioè alla fine che ha risultato il migliore Nathan, che ha tutto quanto, compreso io prima di tutti tenevo dubbi che ha detto certi chi sta in equatore secondo me poi gli guadagni in Serie B che chi non sta adambarare, sta adambarare la posizione, sta adambarare la scala, sta adambarare lì è l'unico che è stato dimostrato e allora lui c'è come si fatti perchè perchè i cacciatori li bruciano mentalmente ma ti spiego si è fatto ma zambo si è sostiturato lì e ha preso il caglio ma tu non entrando ma coppa mano, lui c'è di quanti uova ok? ma ha capito l'errore? è una fatta ancora nuova 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 poi stiamo perdendo la partita e tu l'hai ancora una foto e li fai ancora a stuosimento allora sia pur sia per me per me personalmente per me il problema che si è creato il suo pallone non stupo tieni i piedi papari cioè poterlo dire proprio apertamente è creata la confusione è la disturbata e che sai no? cosa serve la polizia? però ho dubbio minimale sempre questo qua mio barba papà non lo sento non lo sento intervenire il cagliere è sciso abbaccio i spogliari non cazzate ma non ti arrabbiate cosa io sto fatto quattro posti cioè noi siamo campioni d'Italia non dico che devi vincere lo scudetto ma di lottare da campioni da protagonista scusate scusate ci hanno appoggiato la maglia pure politana e sono stati mandati a quel paese allora questa cosa non va chiedi a cacciare ma Raspadora è trequartista non lo so ci hai domandato ma io non mi capisco una cosa questo fa male in questo non mi guarda conoscendo campisti mancanti non è che c'è un allenatore per capire una cosa che è è lasciato in questo e mi serve una spadola c'è un buco in mezzo campo e García ha creato la disturbata nel calcio Napoli tra i calciatori fra lui e i calciatori e non dovevi perdere tempo ha creato una disturbata esagerata ha creato una... allora più ombre si manda via più prima ma è proprio il momento di mandarlo via perché c'è questa sosta accompagnata bella mandatelo via perché chi ci fa solo danno ommai di calciatori ma secondo te lo manda via è di sordo è che fa tanto ma dai serbi ieri ho visto Brighton Liverpool ha fatto cento tiri in bordo cento tiri in bordo non lo so non lo so non lo so ma la partita è bella ma la partita è bella ma la partita è bella ma la partita è acquistata con il cammino ma la partita è bella ma la partita è bella mamma mia mamma mia mamma mia non ce la faccio giù e le brutte figure ma per esempio pure i tifosi noi siamo nei primi noi tifosi e tifosi e su tutto quanto tifosi quando perdono Napoli non sanno sbattere in mano sanno meritare le fischie già come a Madrid e meritare ma tu la sai l'ultima questa qua questa la sapete è bella Napoli Real Madrid ha vinto il Real Madrid la stampa spagnola ha criticato di brutto il Real che ha giocato troppo bassa in difesa chi hanno vincito la partita sono stati criticati lì per dimmi la partita sbattiamo le macchie non c'è pure noi la mentalità non c'è la mentalità perché si dice sbattiamo le macchie troppo la sconfitta perché si cazzo sai che lei vabbè pezzo non mettere tensione chissà che ma far capire all'allenatore che ha dappeggi una valigetta e se ne devi andare perché non fa parte di questo un'arma misa solo da una disturbata tranne che ha avuto la comanda che a lui gli interessa entrare nei primi quattro perché questo nessuno mi voleva la capa questo fatto ha avuto la comanda che a lui abbassi il pancambio sui basta allora tutto questo ti rivolto a contro te lo dico io perché per me via da Napoli domani mattina in calcio come già in calcio in calcio in calcio in calcio in calcio ci aggiorneremo e speriamo che in calcio in calcio un bacione sempre ciao ciao